ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove prepareremo insieme la brioche 448 che si chiama così non per una strana ragione matematica ma perché si fa in 448 la ricetta è della mitica paoletta del blog anice cannella che ringrazio tantissimo e che è diventata per me una maestra che è un vero punto di riferimento per molte ricette di lievitare vediamo insieme gli ingredienti sciolgo la metà del burro con un cucchiaio di vaniglia e tengo da parte scaldo il latte lo verso sullo zucchero mescolo brevemente per far sciogliere poi unisco anche le uova leggermente sbattute metto questo liquido nella planetaria con la foglia montata e faccio andare per qualche secondo prima di unire il lievito di birra sbriciolato subito dopo il lievito inizia ad aggiungere la farina un cucchiaio alla volta in maniera molto regolare e sempre con la foglia a bassa velocità qui vedete il video velocizzato per ovvie ragioni di tempo però la foglia va sempre usata a velocità bassa terminata la farina inizio ad aggiungere il sale in piccoli spolveri subito dopo il sale inizio ad unire il burro se vi ricordate abbiamo una parte di burro fuso e una parte di burro morbido quindi prima unisco i fiocchetti come vedete in questa parte del video li faccio leggermente sciogliere tra le mani e poi li verso nella planetaria sempre con la planetaria a velocità bassa e poi unisco un cucchiaino alla volta il burro fuso qui purtroppo non si vede perché mi sono sbagliata e ho tagliato quel pezzo di video del burro fuso purtroppo capita anche questo con l'aggiunta dell'ultimo cucchiaino di burro fuso vedrete che l'impasto sarà diventato quasi una cremina quindi pur mantenendo sempre la foglia montata ribalto per due o tre volte circa e gioco un po con la velocità della planetaria quindi alzo un pochino alla velocità 2 e permetto così all'impasto di incordare appunto aiutandomi con questi ribaltamenti poi negli ultimi paio di minuti metto il gancio e faccio incordare è importante ribaltare l'impasto per far sì che il gancio possa impastare tutto l'impasto non solo quello che è a contatto con la ciotola una volta incordato passo sul piano di lavoro leggermente infarinato e arrotondo come state vedendo non devo chiudere stretto quindi faccio solo un arrotondamento rapido e faccio un po camminare l'impasto verso di me si fa così con le mani tese si tira delicatamente l'impasto verso di sé facendolo un po girare proprio così in questo modo poi copro campana e faccio fare un primo riposo di 20 minuti questo riposo serve per far rilassare il glutine prima di lavorarlo di nuovo come state vedendo con queste pieghe di forza di tipo 2 quindi prendo delle imbi di pasta e li ripiego verso l'interno spingendo un po con la base della mano quindi chiudo per chiudere bene fino a formare una palla quindi ripeto tutto intorno poi capovolgo mi infarino leggermente le mani arrotondo sempre senza stringere e di nuovo facendo un po camminare l'impasto verso di me con le mani tese come ho già fatto prima spolvero un po il piano e copro di nuovo a campana lasciando riposare per altri 20 minuti dopo questo riposo si passa alla formatura io faccio una treccia due capi perciò divido l'impasto in due parti da ogni parte di impasto dovrò ottenere una sorta di lombrico molto lungo di salsicciotto perciò lavoro ognuna delle due parti di impasto in questo modo schiaccio per bene fino a formare una sorta di rettangolo quindi elimino tutta l'aria appiattisco per bene poi porto la parte superiore verso il centro quindi inizia ad arrotolare ma chiudo e sigillo bene con il palmo della mano ripeto la stessa cosa quindi appiattisco arrotolo e sigillo e questo lo faccio per circa tre volte questo mi consente di avere un salsicciotto che si allungherà con estrema facilità come vedrete tra pochi secondi qui proprio nel video quindi l'importante è sigillare bene con le mani poi con le mani piatte posso andare avanti e dietro e allungare con molta molta facilità questo impasto che comunque è burroso e profumato e veramente facile facile da lavorare poi dovrò ripetere questa stessa cosa anche per l'altra parte di impasto qui ho bloccizzato chiaramente il video ma la procedura è la stessa di prima quella dove si schiaccia si arrotola e si chiude bene una volta che anche il secondo salsicciotto è pronto li dispongo a croce e poi inizia a fare la treccia quello che faccio è portare il sopra sotto e il sotto sopra e poi il lembo di sinistra a destra e quello di destra a sinistra in pratica li scambio di posto e così continuo come vedete fino a terminare tutta la treccia quindi i due capi vanno a scambiarsi quello sopra sotto quello sotto sopra e lo stesso destra a sinistra sinistra destra chiudo la treccia chiudendo leggermente la parte finale mettendola sotto e poi dispongo il mio bellissimo e profumatissimo pan brioche sulla leccarda lievemente imburrata e poi spennello con un po di tuorlo mescolato a un po di latte se non avete il tuorlo va benissimo anche solo il latte o volendo anche l'albume l'importante è spennellare tutta la superficie per bene copro poi a campana e con delle buste di plastica e lascio lievitare fino al raddoppio do un'altra spennellata prima di infornare aggiungo granella di zucchero in superficie e cuocio in forno ventilato a 155 gradi per circa 45 50 minuti se fate pezzature più piccole i tempi saranno diversi perché pezzature più piccole cuoceranno in meno tempo e ad una temperatura più alta spero che il video vi sia piaciuto spolliciate in su e alla prossima ricetta ciao ciao